La contesa davanti ai giudici amministrativi si aprì dopo la nomina risalente al settembre di un anno fa del commercialista Giacomo Gulizzi, scelto dal sindaco Lucio Greco come revisore della municipalizzata Gheras Multiservizi. Un altro professionista, il dottor Rosario Faraci, impugnò gli atti ritenendo che quella nomina potesse essere illegittima. Se ne dovrà occupare però il giudice ordinario, i magistrati del Tar Palermo infatti hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dai legali di Faraci, ritenendo che la competenza a decidere non spettia la giustizia amministrativa ma quella ordinaria. Prima di entrare nel merito del ricorso i giudici palermitani avevano comunque trattato la sospensiva avanzata sempre da Faraci. Il Tar Palermo l'aveva accolta, di fatto bloccando gli effetti della nomina di Gulizzi. Il CGA però ha ribaltato tutto, dando seguito al ricorso avanzato da Gheras e disponendo che la nomina continuasse a produrre effetti. Il Tar Palermo è nuovamente intervenuto, questa volta nel merito del ricorso avanzato dei legali del commercialista Faraci. Nella sentenza si legge che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la giurisprudenza, richiamata dal Tar Palermo, le azioni che riguardano la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del cosiddetto in-house providing. Proprio che Gheras è una società in-house controllata per intero dal comune nella sentenza si ribadisce richiamando giurisprudenza analoga che la scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Da ciò quindi deriva che gli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica devono essere configurati come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica. La nomina di Gulizia, il revisore della Ghelas, quindi viene collocata nella sfera privatistica e in quanto tale sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti di nomina vennero impugnati perché Faraci, che a sua volta presentò la candidatura al revisore, era stato indicato dal collegio sindacale senza che poi il sindaco Lucio Greco desse seguito. Inoltre il professionista contestò l'impossibilità di accedere agli atti soprattutto per acquisire il verbale del collegio dei sindaci della Ghelas. Sia il comune che la stessa multiservizi si sono costituiti nel giudizio. L'amministratore della società in house, Francesco Trenito, spiegò che la nomina venne effettuata regolarmente su indicazione espressa del sindaco Lucio Greco che scelse appunto Gulizia. Grazie. 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 Grazie.